Partecipazione massiccia, preoccupazione palpabile e un certo disorientamento tipico di chi vede le lancette correre, i cantieri avanzare, il cemento incombere. La mattinata in via Selene, a Varese, ha messo in campo tanti approcci, quelli più intransigenti e quelli più dialogici, figure nostalgiche e altre protese verso un futuro che vorrebbero contribuire a scrivere. È assurdo fare polemica, non siamo qui a dire che non si deve fare questa cosa. Questa cosa stanno già facendo, quindi io sono qui per dire, per evita, allora non facciamo questo pezzo qui, che non prega niente a nessuno e ci lasciamo fare quella lì, ci lasciamo fare quella lì che invece è una cosa importante. C'erano i residenti della zona, contrari all'intervento finanziato dalla regione, quegli oltre 900 mila euro utili a realizzare un tratto di strada funzionale alla nuova S lunga. Ci troviamo adesso questa sorpresa di distruggere un pezzetto di zona verde, soprattutto quella che riguarda la palude. La palude Stoppada è un posto che assomiglia vagamente alla palude Brabbia, quindi pregevole dal punto di vista naturalistico, distruggiamo sia la palude che questo pezzo di verde, che in fondo è una continuazione del parco Cintura Verde su Varese. Ora, fare questo chilometro comporta che poi il traffico, che è previsto un traffico camionale pesante perché deve servire all'area industriale di Gazzada Schiano, questo traffico pesante che è previsto per questo tratto si troverebbe bloccato ancora prima della via Piana di Luco, come diceva prima Lele Zanzi, si troverebbe bloccato già subito oltre l'area del Ponticello. Cosa sta succedendo in questa zona? Perché era una zona meravigliosa. Io sono di parte perché abitavo là sopra per 40 anni e quindi voglio dire in questi prati ho giocato. E sarebbe facile buttarla sull'aspetto emotivo. Ma in questo momento dobbiamo semplicemente cercare di essere molto razionali e capire cosa realmente sta succedendo. C'era il PD, desideroso di ascoltare ma anche di chiarire da subito che il tempo dei ripensamenti non è ancora scaduto. Il tema è, ci possiamo fermare al progetto della rotonda o è necessario anche fare questo pezzo di strada? Secondo me il tema essenziale è questo qua. Su questo pezzo di strada siamo ancora in tempo a intervenire. C'erano legambiente amici della terra, con la prima che considera la temibile Baritella Gasparotto-Borri a parole scartata ma ancora presente nel PGT il vero nemico da battere e da evitare a tutti i costi. E i secondi focalizzati sui rischi per questo angolo di pace e di verde, per la fauna e la flora che vi risiedono e per i terreni che la nuova via Selene cancellerebbe. E c'era Varese 2.0, col vice sindaco Zanzi, la consigliera Baratelli, il presidente del corso, pezzi di maggioranza rifrattari alle fughe in avanti e, a loro volta, terrorizzati dal suddetto collegamento. Il problema è anche un altro che bisognerebbe anche togliere, fa sparire dal piano regolatore, la Baratella di collegamento con Bizozano. Perché se un domani arrivassero dei soldi improvvisamente dalla regione o da qualche altro ente, essendo già inserita, uno più uno fa due e domani potrebbero partire dei lavori. Rete55 ha raccolto tante voci, diverse istanze, spiegazioni, ricordi, posizioni, cui dedicherà ampio spazio nello speciale in onda, sabato 12 settembre, nell'ora dei Tg.